Ciao a tutti ragazzi, sono Alessia e ste su Book Lovers Army. Prima di iniziare il video, informazioni di servizio. Visto che recentemente siete cresciuti tantissimo, ho deciso di anticipare l'apertura della pagina Facebook del canale di cui vi lascerò il link nel box informazioni qui sotto. Sempre nel box informazioni potete trovare i link ai miei altri social media, Twitter, Tumblr, Instagram, Goodreads, quelle cose là insomma, quindi dateci un'occhiata se volete. Ma passiamo al video di oggi che è il Would You Rather Book Tag, un tag di 10 domande tipo preferisci l'opzione A o l'opzione B. Io dovrò scegliere e ovviamente queste domande saranno tutte incentrate sui libri e la lettura. Ho scoperto questo video grazie a Jessie De Reader che è un booktuber americano che io adoro e ho tradotto le domande del suo video dall'inglese all'italiano perché non mi sembrava di aver mai visto un booktuber italiano fare questo tag, ma potrei sbagliarmi visto che sono comunque nuova alla comunità booktuber italiana. Ora che ho finito di cionciare, iniziamo pure. Uno, preferiresti leggere solo trilogie o solo stand-alones, ovvero i libri autoconclusivi? Personalmente io preferisco le trilogie perché trovo che ci sia più spazio per sviluppare la storia, i personaggi, il mondo eccetera, quindi anche se magari il primo libro non è tra i migliori, può sempre comunque migliorare. Due, preferiresti leggere solo autori o solo autrici? Sinceramente a me non interessa molto se un libro l'ha scritto un uomo o una donna, nel senso che se la storia è interessante mi cattura, lo fa indipendentemente da chi l'abbia scritto, ma per questa domanda credo sceglierò di leggere solo libri scritti da autrici perché sono una donna e le donne sono fantastiche, quindi sì, vogliamo più autrici donne. Tre, preferiresti comprare libri solo in libreria o solo da Amazon? Sicuramente comprare libri online, che sia da Amazon o altri siti, ti permette di trovare spesso dei prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli che si trovano in libreria, però io ho sempre paura che ci sia un qualche problema con la spedizione o cose del genere, ci mette sempre milioni di anni ad arrivare e non si sa mai che cosa stia succedendo e secondo me questi problemi in libreria non ci sono, quindi se vivessi in America dove fanno molti più sfonti e molte più offerte e le edizioni di alcuni libri in libreria sono fantastiche, tipo quelli della Barnes & Nobles, sicuramente vorrei comprarli in libreria. Quattro, preferiresti che i libri diventassero solo film o solo serie tv? Assolutamente serie tv, cioè riuscite ad immaginarvi se Harry Potter o uno o qualsiasi dei vostri libri preferiti diventasse una serie tv e andasse avanti per anni con tantissime stagioni e inserissero ogni minimo dettaglio? Sì, cioè, sì, ti prego, qualcuno lo faccia succedere, per favore. Cinque, preferiresti leggere cinque pagine al giorno o cinque libri alla settimana? Se non avessi assolutamente niente da fare nella mia vita, sicuramente sceglierei di poter leggere cinque libri alla settimana perché sì, perché io amo leggere, quindi mi sembra ovvio. Sei, preferiresti essere un critico letterario professionale o un autore? Nonostante ultimamente mi stia prendendo benissimo a fare recensioni, sicuramente preferirei essere un'autrice perché io adoro scrivere, ho sempre amato scrivere e anche adesso sto facendo una facoltà universitaria che mi permette di scrivere, quindi sicuramente preferirei essere un'autrice. Sette, preferiresti leggere continuamente i tuoi venti libri preferiti o leggere sempre libri nuovi che non hai mai letto? Questa è una domanda interessante, io credo che nonostante mi piacerebbe tantissimo poter rileggere sempre i miei libri preferiti, dopo un po' mi stancherei, quindi credo che sceglierò di leggere sempre libri nuovi. Otto, preferiresti essere un bibliotecario o uno che lavora in libreria? Personalmente l'idea di lavorare in biblioteca mi attira molto di più perché poter maneggiare libri che sono passati di mano in mano e che hanno una propria storia, che fanno sempre viaggi continui, secondo me è una cosa meravigliosa e magica, quindi sì. Nove, preferiresti leggere solo il tuo genere preferito o tutti i generi eccetto il tuo preferito? Mmm, che domanda difficile, cosa scegliere? Cioè, preferirei annoiarmi a leggere tutti i generi che non mi piacciono o leggere solo il genere che io adoro? Risposta scontata, ovviamente preferirei leggere solo il mio genere preferito perché sì, perché annoiarmi con libri che non mi piacciono, di un genere che non mi diverte, quando potrei leggere solo libri di un genere che adoro? E infine, dieci, preferiresti leggere solo libri cartacei o solo e-books? Questa è una domanda un attimino più complicata, nel senso che io leggo sia cartacei che e-books, anche se in prevalenza leggo e-books perché nel mio caso personale ho il vantaggio che posso portarmi dietro un sacco di libri senza peso aggiuntivo e per me è la cosa più conveniente. Però, ovviamente, se avessi la possibilità di collezionare libri e i soldi non fossero un problema, io comincerei a raccattare libri anche domani, purtroppo non lo posso fare. Bene ragazzi, questo era il Would You Rather Book Tag, spero vi sia piaciuto e se avete un canale YouTube e vi interessa farlo, fatelo. Vi ricordo il link alla pagina Facebook del canale, linkato nel box informazioni qua sotto insieme a tutti i miei altri social media, quindi dateci un'occhiata perché userò molto Facebook per informarvi di quando pubblicherò i video e voi potete usarlo per farmi domande, quindi come sempre se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di iscrivervi al Booklovers Army. Ciao!